buongiorno bimbi belli ecco il nostro momento di lettura pronti posizioni d'ascolto perché stamattina iniziamo una fiaba magica la fiaba di aladin fabrizio occhi e orecchie che sei tu questa storia si svolge nel lontano oriente benvenuti ad agraba città del mistero città magica qui viveva un perfido uomo di nome giafar un uomo potente era non solo visir ma anche consigliere del vecchio sultano eppure sempre assetato di nuovo potere una notte giafar a mantato di nero con il suo pappagallo iago appollaiato come sempre sulle spalle andò nel deserto per incontrare il lado gazim grazie a lui sperava di trovare la caverna delle meraviglie in cui sembrava fosse nascosta una misteriosa lampada dai grandi poteri aveva infatto sentito dire che nella lampada era imprigionato un genio potente capace di esaudire tre desideri del proprio padrone ma per ritrovare la caverna delle meraviglie occorreva far combaciare le due estremità di un medaglione a forma di scarabbeo giafar ne possedeva una metà l'altra avrebbe dovuto portarla proprio gazim ed infatti come il ladro arrivò giafar lo afferrò impaziente sei in ritardo l'hai preso ma fu iago il pappagallo veloce come un lampo ad afferrare la metà del medaglione per porgerlo ai giafar e questi ricompose così le due metà ricostruendo la figura dello scarabbeo uno scarabbeo che in un'esplosione di luce prese vita alzandosi in volo e lasciando dietro di sé una scia luminosa presto seguiamo la scia incitò diafar spingendo il cavallo a galoppo più veloce quando la scia scomparve tra le dune del dalla sabbia immerse la testa gigantesca della dea tigre nelle cui fauci spalancate si apriva un'immensa caverna sbigottito ed esultante al tempo stesso il cavaliere nero urlò finalmente eccola è la caverna delle meraviglie l'enorme bocca era tale da incutere terrore ma giafar suspinse gazim su vai e ricordati di portarmi la lampada il resto del tesoro è tuo ma la lampada è mia ma la dea tigre ruggì soltanto uno può entrare qui colui che ce l'ha in sé il proprio valore un diamante allo stato grezzo mentre gazim spariva nelle fauci della tigre jago sputacchiando esprimeva dall'alto della spalla di giafar i suoi dubbi non ci riusciremo mai a prendere quella stupida lampada mi cadono le penne da quanto sono stressato e giafar da parte sua rifletteva cupo tornando a cavallo in città uno soltanto può entrare nella caverna e io devo trovarlo questo diamante allo stato grezzo il giorno dopo al mercato di agraba un giovane chiamato aladin stava tentando di rimediare del cibo per sé e la sua scimmietta a bu povero com'era non poteva che ricorrere al furto ci provò col fruttivendolo ma per aladin quello non era un giorno fortunato in vano tentò di far distrarre il fruttivendolo dalla sua scimmietta l'uomo comprendendo l'intenzione urlò al ladro poi chiese aiuto l'aiuto delle guardie del sultano che accorrendo gridavano fermati ti faremo tagliare le mani una volta per tutto è straccione lunga fuga di aladin prima di riuscire a rifugiarsi sui tetti da qui si vedeva il palazzo del sultano qua come sempre potete vedere i disegnini che facevano i miei figli su questi libri quando li leggevano qui hanno messo una bella spada in mano ad aladin quindi facevano il tifo per aladin all'interno del palazzo il sultano invece era alle prese con un grosso problema la figlia jasmine rifiutava tutti i suoi pretendenti e anche l'ultimo arrivato in ordine di tempo il principe akhmed se ne stava già andando infuriato non sono mai stato così insultato se sperate di trovarle un marito al povero sultano non restava che implorare la figlia anima mia devi smetterla di respingere ogni pretendente che arriva al palazzo pretendente sapete chi sono sono le persone che vogliono sposare qualcuno che tendono alla sua mano la legge dice che devi sposare un principe entro il tuo prossimo compleanno e mancano solo tre giorni a jasmine pertanto non restava che confidarsi con l'unica amica la tigre rajà non posso restare qui e lasciare che siano altri a decidere della mia vita devo fuggire mi mancherai addio poi vestita di umili panni per nascondersi meglio jasmine scavalcò le mura del palazzo e si addentrò nella città mentre jasmine attraversava il mercato che per lei mai uscita dal palazzo era tutta una sorpresa i venditori le offrivano le merci più belle bella signora compra questo pesce la signora vuole una bella stoffa e jasmine rifiutava sorridendo fino a quando notò un piccolo vagabondo che fissava un banco di mele devi essere affamato ecco prendi disse nello frighi una mela sotto l'occhio minaccioso del fruttivendolo che l'apostrofò guarda che devi pagarla quella mela nessuno ruba dalla mia bancarella vi chiedo scusa signore ma io non ho nemmeno un soldo ribatte jasmine proprio in quel momento passava aladin che deciso a proteggere la fanciulla intervenne meno male signore che l'avete trovata ti ho cercato dappertutto lo sai conosci questa ragazza chiese il mercante purtroppo sì è mia sorella è un po' matta e rivolgendosi a jasmine disse su vieni sorellina dobbiamo andare dal dottore e l'afferrò trascinandola per un braccio e sparendo in fretta alla vista del venditore a cui non restò che urlare ma cosa succede tornate subito qui brutti ladruncoli arrivati al rifugio di aladin sui tetti è qui che vivi chiese jasmine indovinato siamo io e abu andiamo e veniamo come ci pare beate voi sospirò jasmine e poi rispondendo alla domanda di aladin sono fuggita e non intendo tornare indietro davvero perché mio padre vuole costringermi a sposarmi ma è terribile anche abu dice che non è giusto e vorrebbe fare qualcosa per aiutarti intanto nella reggia il visir era alle prese con la sua clessidra magica dividetevi sabbie del tempo rivelatemi colui che può avere accesso alla caverna ordinò e vedendolo nella sfera di cristallo aladin esclamò eccolo il mio diamante allo stato grezzo perdonate ho sbagliato la pronuncia vedendo nella sfera di cristallo aladin quindi è già fare che vede aladin nella sfera di cristallo esclamò eccolo il mio diamante allo stato grezzo mandiamogli le guardie con un invito al palazzo e così fu le guardie afferrarono aladin mentre lo tenevano fermo jasmine comandò liberatelo è la principessa che ve lo ordina ma il capo delle guardie per quanto sballordito né riconoscerla ribatté vorrei farlo ma l'ordine di giafar dovete parlare con lui tornata subito a palazzo jasmine andò da giafar a chiedere spiegazioni le guardie hanno appena arrestato un ragazzo per ordine tuo quel ragazzo è un criminale ha rapito la principessa rispose giafar sicuro di sé ma non mi ha affatto rapita protestò jasmine sono fuggita da sola o altezza che equivoco mostruoso ma la sentenza è già stata eseguita decapitazione a jasmine non restò che correre nelle sue stanze e piangere disperatamente è tutta colpa mia e non so neanche il suo nome aladin in realtà non era morto ma era stato rinchiuso nelle prigioni del palazzo insieme ad abu che l'aveva seguito senza essere visto proprio mentre abu cercava di liberarlo apparve un vecchio e tu chi sei chiese aladin un povero prigioniero come te ma forse insieme abbiamo una possibilità disse il vecchio e poi proseguì c'è una caverna piena di tesori mi servono gambe giovani e schiena robusta per andarli a prendere in cambio tu mi darei una lampada di poco valore e così dicendo mostrò ad aladin un passaggio segreto